3, 2, 1, via! Buon divertimento! Si è conclusa con grande successo la tredicesima edizione di Cucuran, la gara podistica della solidarietà che si è svolta la scorsa domenica a Cucurano di Fano. L'iniziativa, promossa dal circolo Acli Burrain, collaborazione con le varie associazioni locali presenti all'evento, ha visto circa la presenza di 176 partecipanti. L'evento benefico si è articolato in vari momenti con la cerimonia di apertura, con l'esibizione di arti marziali e un saggio di ginnastica, poi una corsa podistica dedicata ai bambini delle scuole elementari, corsa podistica dei ragazzi ed infine la partenza dell'ottavo Memorial Giuseppe Burrai, che ha visto i numerosi runner coinvolti in una corsa lunga 6,6 km. Non sono mancati inoltre spazi dedicati ai più piccoli, con attività didattiche e laboratori che per l'occasione sono stati incrementati e revisionati con lo scopo di sensibilizzare consapevolmente le risorse che la natura offre. Sono 13 anni che organizziamo la Cucuran, da 8 anni abbiamo inserito il Memorial Burrai, perché il nostro circolo ha intitolato a Giuseppe Burrai, prematuramente scomparso, un ragazzo che purtroppo è venuto a mancare, e che insieme alla famiglia abbiamo concordato di intitolare a questa podistica per tutte le persone, tutti gli adulti. I ringraziamenti successivamente vanno poi a tutte le associazioni del territorio che ci hanno permesso di poter organizzare questo evento che come dicevete appunto è trasversale, perché ripercorre un po' il solto, il tracciato delle acriche, la socialità, la promozione sociale, la crescita sociale. A tagliare il traguardo di questa edizione è stata per la categoria donne Valeria Baldassarri, mentre per la categoria uomini Gianmarco Ceresani. Gianmarco Ceresani vince questa edizione 2018 della Cucuran. Sono divertito, bella gara, in progressione sono andato, sono parito un po' più tranquillo, poi piano piano con i chilometri cercavo di aumentare, anche perché dietro andavano comunque, onore a tutti gli avversari dal secondo fino all'ultimo, perché comunque è ottima concorrenza. Eugenio, bene, grazie, complimenti e congratulazioni.